Io direi di chiamare il sindaco di Arzano, il dottor Giuseppe Peppe Fuschino, Giuseppe Antonio Fuschino, eccolo qui, il patron di Castrocaro, Giuliano Casarini, una sua collaboratrice, Maria Carmela De Rosa, e il presidente di giuria che ci ha accompagnato per queste tre serate, Domenico Brasiello. Allora, sì, Antonio si è trattato alla mia destra, quindi abbiamo anche le tre buste. Una magnifica serata, ancora una volta ci sono stupiti, delle belle canzoni, bravi ragazzi, io auguro veramente a questi ragazzi un futuro rosio, perché ecco, come diceva prima anche il nostro giurato, Carmela Cusso, speriamo che il sogno per questi ragazzi si possa avverare. Buonissimo, sono d'accordo con la parola. Allora, per le canzoni edite, il vincitore è... Herminia Antonio. Allora, complimenti. Herminia Antonio, ecco il premio. Un altro applauso. Allora, sì, passiamo all'altro. Andrete all'addizione il primo giurino a Castrocaro. Passiamo all'altra categoria. L'altra categoria è la categoria inedite, direttamente dal patron Casarini. Ecco la busta. Per la categoria, canzone inedita. Vince Pasquale. Ok. Per il premio Lina Russo, quattro mani. Premio di mia madre. L'apriamo e vediamo chi è. Ah, c'è l'antone. I vincitori, allora, sono... Allora, i vincitori sono Nicola Perri e Maria Rosaria Carcarino. Carcarino. Anche voi, ragazzi da questa parte, complimenti. Complimenti, complimenti. Complimenti. Un'altra pausa a questi ragazzi, un altro applauso. Da regolamento, noi dovevamo avere due vincitori per Castrocaro. Però il patron Giuliano Casarini ha detto perché non mandare a Castrocaro anche il premio Lina Russo, quattro mani. Quindi ragazzi, siete fortunati. Va concesso. Super fortunati. Ma non solo. Doppiamente vincitori, allora. Non solo. Giuliano Casarini, così gentile, così buonanimo, così... Così? Così, così. Ha detto, mandiamone altri due. Li vuoi dire tu? Mario Ceno. La ragazza con il braccialo d'argento, mi diceva Giuliano Casarini. Annalisa Sabatino, mi pare. Eccola qua. Quindi, tutti questi ragazzi andranno direttamente a Castrocaro. A Castrocaro, il primo giugno. Io volevo rilasciare prima di tutto il nostro pubblico qui presente. Poi vogliamo ricordare che il 18 giugno, prima tappa del contest tour, sarà Arzano, Villa Comunale. Quindi, ecco, è un appuntamento a cui non dovete mancare. Vi aspettiamo. Volevo aggiungere... Andrà in onda il 13 luglio. Che andrà in onda il 13 luglio su... Rai 1. Su Rai 1. Dimmi quando tu verrai. E dopo l'accademia, tutti in tour. Che bello, che bello. Una cosa importante per questi ragazzi. Volevo aggiungere altri due ringraziamenti, sinceramente. Due che a me sanno più a cuore. Sarebbero quelli per Terino e quelli per Antonio Portella, che ci ha permesso davvero di essere qui oggi. Grazie mille. Grazie, grazie pure a te, Edica. Grazie. 1, 2, 3... Una voce in Campania! Grazie, buonasera. Arrivederci alla prossima occasione. Grazie. Grazie.